Quanto mi riguarda devo dire che la Toscana in questo momento vive di dati che sono buoni, nel senso che noi ci troviamo ad avere, lo vedevo stamani, meno di 500 contagi, mentre siamo arrivati anche a 800 nella settimana scorsa, un giorno, e sono stati dati che poi ci hanno portato in zona arancione. Vedo che le terapie intensive sono occupate in una misura di 130, che è una misura tutto sommato ben gestibile, in altri momenti quando arrivavamo sostanzialmente a 300, e anche i posti Covid complessivamente sono 850, rispetto a punte ad ottobre che hanno visto superare i 2.200. Quindi è vero che siamo in zona arancione, ma con dei dati molto gestibili, con una capacità di controllo della situazione che rende onore anche al nostro sistema sanitario.